Vai, 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 spegni, 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 scelto, auguri, 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 scelto, ora c'è il momento regale, il momento regale, scelto, auguri, che ne fatti auguri a mia zia? Mamma, guarda qua, me lo faccio auguri a mia zia, auguri amore mio, scelto, anche a te Vabbè ragazzi, aspetta, 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 ragazzi, qui ci sono come vedete, tanti regali degli invitati, ma manca, manca il nostro, ma non manca, ci siamo noi Ah, ci siamo? No, scelto, amore, vattene un attimo da mia zia, vattene Manca il mio, quello segreto, scelto, quindi a tra poco, dopo questo video vi prometto che c'è quello scandalo del tonnello, a tra poco Sio, non è il tuo compleanno, chi sta fanno tu? Hai fatto 50 anni tu? Avviso i cannoli, ah, quasi, ah, i cannoli, vi si, senti, saluta, 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 ti, che sta fanno? No, vabbè, allora, vabbè ragazzi, io ho perso il conte, io ho perso il conte, ma io vado, vado, vieni, comincio ad andare verso la macchina Ragazzi, adesso corriamo insieme alla mia nipotina, Aurora saluta, saluta e saluta Ciao Ciao Insieme a lei stiamo andando a prendere il regalo all'insaputa del conte, aspetta però non passare, ah Ok Aspetta, mi apri tu? Aspettate ragazzi, no vabbè, insieme a lei, non passare la strada però, ah, la passiamo insieme Vieni qua, vieni qua, andiamo, ah, l'orologio, c'è l'orologio, ve lo vuole fare vedere, vieni qua, vieni qua, dagli la mano allo zio Andiamo, andiamo, passiamo, passiamo ora, passiamo ora, passiamo ora, scetto, ragazzi un secondo Eccolo ragazzi, eccolo qua, passa, 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 spiegati, spiegati, entra, entra Eccolo qua ragazzi, che momento regali, cosa farà il conte, saluta, 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 cosa farà il conte a tra poco, a tra poco